Buon pomeriggio le 15 e 22 in Italia, le 13 e 20, ora di pranzo in Armenia. Il Papa è a Gyumri, dove questa mattina ha celebrato l'unica messa pubblica di questo viaggio. In questo momento invece è ospite del convento Nostra Signora dell'Armenia, probabilmente visto l'orario sarà ancora a pranzo. In questo convento ha incontrato tra gli altri un gruppo di orfani ospitati proprio da questa struttura. Di qui a poco invece andrà a far visita le due cattedrali di questa città a 80 km della capitale, la cattedrale apostolica e quella cattolica. Ormai avete imparato a conoscere un po' la chiesa armena fatta appunto di una maggioranza apostolica e di una minoranza cattolica, però unite in un ecumenismo solido e antico. E a proposito di ecumenismo, ecumenico è l'appuntamento che vi racconteremo in diretta questo pomeriggio intorno alle 5, quando il Papa farà ritorno nella capitale Yerevan, proprio per un momento di preghiera ecumenica per la pace. Tutto questo insieme a un gruppo di ospiti che vi presento subito, cominciando da Padre Ivan Martini, missionario camigliano, che ha una lunga storia importante. Armena oggi Papa Francesco durante la messa ha parlato dell'ospedale di Assojic, dove lui è stato una struttura voluta da Giovanni Paolo II, dove Padre Ivan è stato il primo direttore nei mesi immediatamente successivi al terremoto del 98, costato la vita a 25.000 armeni. E poi Padre Amazasp Keshishan, mi chitarista, viene dal monastero dell'isola di San Lazzaro degli Armeni, a Venezia, ne abbiamo parlato in questi giorni e oggi scopriremo molto di più. E ancora Baikar Sivazilian, che insegna armenistica alla statale di Milano ed è stato per dieci anni presidente dell'Unione Armeni d'Italia. Non ha bisogno di presentazione il direttore del sismografo Luis Badiglia e quasi quasi neanche Riccardo Burigana, direttore del Centro per l'Ecumenismo d'Italia, tante sono ormai i viaggi in cui ci ha accompagnato. Prima di iniziare però il racconto in diretta di quello che sta per succedere in questa seconda giornata di viaggio armeno, andiamo a vedere quello che è stato sicuramente il momento più toccante di questa giornata e fin qui del viaggio del Papa. Vale a dire la preghiera sulla collina delle Rondini, dove il popolo almeno ricorda il genocidio di cent'anni fa, costato la vita a un milione e mezzo di persone. Andiamo a rivedere i momenti più belli e toccanti di questa preghiera. Grazie a tutti. 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 un canto di gloria. 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 gli disse Tommaso. Signore, gli disse Filippo, Signore, che io vi dico, e ne compirà, un canto di gloria. 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 gloria. un canto di gloria. un canto di gloria. Cristo, che incoroni i tuoi santi, ed empi la volontà dei tuoi fedeli, e guardi con amore e dolcezza alle tue creature. Ascoltaci dai cieli della tua santità per l'intercessione della Santa Venitrice di Dio, per le suppliche di tutti i tuoi santi e di quelli di cui oggi è la memoria. Ascoltaci, Signore, e abbi fietà. Perdonaci e spia e rimetti i nostri peccati. Rendici degni di glorificarti con sentimenti di grazie insieme al Padre e allo Spirito Santo ora e sempre nei secoli dei secoli. Orgnial, Dermed, Jesus Christos. Amen. E adesso di nuovo la preghiera del Padre nostro. Grazie a tutti. 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 Armino. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.